In alta montagna, Gregory imprigiona Malkin, una potente strega che lo implora di liberarla. Passano gli anni, e riesce finalmente a riacquistare la sua forza e il suo potere da una luna di sangue, per sfuggire alla sua prigionia in forma di drago. In un villaggio, Bradley, l'apprendista di Gregory, cerca il suo maestro per informarlo che in un altro villaggio una ragazzina è infetta. Gregory risponde che non ha più a che fare con esseri ultraterreni, ma un cavaliere lo spinge a farlo combattere. Gregory si rifiuta di obbedire all'ordine del cavaliere arrogante, e poi scoppia una rissa. Sconfigge abilmente il cavaliere, poi va con Bradley dopo che sa che le campane hanno suonato, il che significa che è stato convocato al villaggio. I due vanno lì e trovano la bambina, apparentemente posseduta. Si scopre che lo spirito malvagio dietro il possesso è madre Malkin, la cui forza è tornata dopo che Gregory l'aveva imprigionata. Bradley è quasi tentato dalla sua bellezza, ma riesce a tornare indietro e lavorare con il suo maestro per catturarla. Sfortunatamente, tenta di fuggire, poi quando viene quasi spinta in una gabbia, lei trascina anche Bradley con sé. Vedendo che non ha scelta per salvare il suo apprendista, Gregory brucia la gabbia. Tuttavia, Malkin ha ancora la forza di fuggire nella sua forma di drago. Da qualche parte lontano, vive una pacifica famiglia di contadini. Tom, il settimo figlio, adora cacciare i maiali e teme di lasciare la sua noiosa città Natale. Nel mentre Kate, sua sorella, gli urla di badare ai maiali. Poi il suo corpo trema improvvisamente e ha una visione. La sorella chiama la madre, che sembra sapere come prendersi cura di suo figlio. Il maestro Gregory arriva quindi alla residenza di Ward su una barca. Sa che li vive un settimo figlio del settimo figlio, una qualifica per diventare cavaliere come lui, e vorrebbe reclutarlo. Spiega che ha fretta, e paga un sacco di soldi al patriarca. Tom riconosce Gregory come l'uomo delle sue visioni, quindi accetta di diventare il suo apprendista. Prima che se ne vada, ma muordi da il suo misterioso ciondolo, che ha nascosto a Gregory quando lei prima lo salutò. Nel frattempo, Malkin arriva nella sua fortezza e interroga sua sorella, Lizzie, che è stata malamente ferita dall'azione di Gregory. La guarisce e ricostruisce la fortezza distrutta. Lizzie spiega che lo spettro, Gregory, li ha fatti soffrire. Nel frattempo, Gregory e Tom arrivano in una città e si dividono per raccogliere provviste. Tom sente un trambusto, trovando una strega accusata che sta per essere giustiziata. Riconosce la ragazza dalle sue visioni, e usa la sua posizione di apprendista di Gregory per trattare con lei. Dopo essersi nascosto in un vicolo, la libera, e lei scompare senza lasciare traccia. Si scopre che è Alice, la figlia di Lizzie, una spia strega che ha seguito Gregory. I due poi continuano il loro viaggio, camminando in una foresta piena di gatt. Tom interroga il maestro sui suoi ex-apprendisti, che sono stati tutti uccisi. Gregory parla di Bradley, il suo miglior apprendista, che è stato ucciso da Malkin. Si dirigeranno alla fortezza di Malkin a Pendle Mountain per fermarla, prima che la sua piena forza ritorni e devasti le città. Tom improvvisamente ha di nuovo delle visioni e sviene. Si sveglia su una barca e incontra Tusk, un altro compagno del suo padrone. Arrivano allora alla residenza di Gregory. Tom chiede di un vecchio arazzo dei Falcons, un esercito di cavalieri potenti che combattono l'oscurità ed esseri ultraterreni, e deduce che Gregory è l'unico Falcon rimasto siccome gli altri cavalieri hanno ceduto all'oscurità. Gregory poi, gli ricorda che hanno solo una settimana prima della luna rossa dove Malkin e le sue streghe otterranno il loro massimo potere. Prima di licenziarlo, Gregory dice a Tom di non uscire dalle sue stanze. Lo mette alla prova attivando una delle creature oscure per fare rumore, il che disturba Tom. Esce per controllare il rumore e ne viene subito attaccato. Gregory pensa che Tom lo deluderà, ma rimane colpito quando il ragazzo lancia un pugnale che quasi lo colpisce. Tom implora Gregory di insegnargli. Quindi studia i luogotenenti di Malkin e impara ingranaggi e pozioni usati nei combattimenti con le streghe. Nel frattempo, Malkin incontra i suoi luogotenenti. Radu le porta ai suoi migliori assassini, e lei li intimidisce e uccide uno di loro che osa guardarla. Vedendo ciò, Alice teme per la sua sicurezza e chiede a Lizzie se seguire Malkin è la giusta cosa da fare. Lizzie la convince che è quello che deve essere fatto e che i poteri di Malkin faranno sì che i loro uomini non possano essere bruciati. Alice continua quindi a spiare Tom e Gregory facendo il bagno intenzionalmente al chiaro di luna per attirare l'attenzione di Tom. Quando si toccano, emerge una scintilla blu. Tom si rende conto che Alice è una strega ma non sembra odiarla. Dice anche che lui e il suo maestro andranno a Pendle Mountain per sconfiggere Malkin. Alice poi, scompare di nuovo. Il giorno successivo, Gregory viene convocato nella città murata, ritardando il viaggio verso Pendle Mountain. Lui deve affrontare Urag, il più letale dei luogotenenti di Malkin. Lascia che Tom finisca il lavoro, ma esita a bruciarlo e decide di non farlo. Gregory è deluso, poi se ne va senza di lui. A loro insaputa, Alice osserva il trambusto. Quindi si avvicina di nuovo a Tom, e poi si baciano. Alice crede che la scintilla blu di prima sia stata causata dal fatto che le loro due anime sono state destinate a incontrarsi. Tom vuole uscire con lei in un posto sicuro, ma lei pensa che non sia possibile. Ha di nuovo visioni di Malkin che sconfigge Gregory, quindi decide di tornare dal suo maestro per aiutarlo. Gregory ammette a Tom di essersi innamorato di Malkin una volta, ma dopo è diventata gelosa sapendo che aveva una moglie, che lei ha ucciso. Ha mostrato la sua misericordia non uccidendola e solo imprigionandola, ma è stato un errore. Nel frattempo, tutti i luogotenenti di Malkin, tranne Ugar, si sono riuniti e imparano da Alice che i due spettri si stanno avvicinando alla fortezza. Incontrano Bogart, uno sconsiderato gigante terrestre con problemi di vista. Combattono ma Gregory fraintende l'avversario, pensando che abbia paura dell'acqua. Tom finalmente lo sconfigge dopo che sono caduti da una cascata. Quindi viene minacciato da Lizzie, ma la sua spada ha colpito il suo ciondolo. È scioccata perché sa che il ciondolo appartiene a Malkin, quindi scappa. Tom mostra il ciondolo a Gregory. È una pietra umbra, un potente talismano da strega che esalta le loro illusioni. Moltiplica la forza di Malkin ma è stato rubato da un'altra strega. Successivamente, Gregory è stato in grado di sconfiggerla. Deducono che Mamward sia una strega che ha rubato il ciondolo a Malkin, il che rende Tom una strega pur essendo anche un apprendista Spook. Nel frattempo, Lizzie informa Malkin dei sentimenti di Tom per Alice, poiché lo ha percepito quando lei lo ha incontrato. Quindi, Malkin ordina ad Alice di recuperare il ciondolo da Tom. Se ci riuscirà, potrebbe considerare di risparmiare la vita di Tom. Malkin e i suoi luogotenenti attaccano quindi il villaggio. Mostrano le loro forze per vendicare quelle streghe che gli uomini hanno giustiziato. Mamward, che si trova in città, la difende nonostante gli avvertimenti della sua famiglia. Malkin si rende immediatamente conto che una strega la sta tradendo e che si è schierata con gli abitanti del villaggio, poi uccide Mamward. Gregory, Tom e Tusk continuano il loro viaggio. Mentre Gregory e Tusk controllano qualcosa e lasciano Tom indietro, Alice appare e si avvicina a Tom. Gregory e Tusk tornano rapidamente, quindi catturano Alice. Tom la difende, credendo che non tutte le streghe siano malvagie. La libera, non rendendosi conto però, che ha rubato il suo ciondolo. I tre poi la inseguono in una foresta, dove li attende l'esercito di Malkin. Segue una battaglia. Tom e Tusk cadono da un canyon, mentre Gregory viene catturato e poi portato a Malkin. Dopo aver ripreso conoscenza, Tom incontra lo spirito di sua madre, che lo convince ad avere coraggio, accettare i suoi poteri e sconfiggere Malkin. Trova Tusk che è sopravvissuto anche lui alla caduta, e insieme si dirigono verso Pendle Mountain. Nel frattempo, i luogotenenti di Malkin portano Gregory davanti a lei. Lo seduce, usando la pietra per aumentare i suoi poteri. Alice è devastata quando apprende che l'esercito di Malkin ha lasciato Tom a morire. Poi interrompe la zia e si toglie il ciondolo, annullando le sue illusioni, e scattando Gregory torna in sé. Malkin la insegue ma Lizzie si mette sulla sua strada, difendendo sua figlia essendo che lei significa tutto per lei. Si trasformano in draghi e poi si rincorrono. Nel frattempo a terra, segue una rissa tra Alice, Tom, e Gregory contro l'esercito di Malkin. Tom trova Alice, poi lei spiega che ha preso il ciondolo per farsi che Malkin le risparmiasse la vita. Vedendo il ciondolo sotto le rovine della fortezza, Tom rivendica i suoi poteri, combinando il bastone di Spook con il medaglione. Il suo potere sconfigge facilmente i luogotenenti di Malkin. Malkin e Lizzie si combattono fino a quando entrambe non vengono ferite. Tuttavia, Malkin alla fine prende il sopravvento, esclamando che disapprova il tradimento della sorella, e poi la uccide. Gregory dice a Tom che deve sconfiggere Malkin da solo ed entra quindi nella fortezza. La trova sdraiata sul suo letto, che mette in dubbio il suo amore per lei. Afferma che non nutre più amore per lei, quindi brandisce segretamente un pugnale per ucciderla, ma prima lo soffoca. Dalla porta, Tom lancia un pugnale contro Malkin, ferendola a morte. Quindi finisce il suo lavoro bruciando la strega sul suo letto, ponendo fine al suo regno di terrore. Lasciano quindi la fortezza. Un po' di tempo dopo, Gregory segna la mano di Tom con un segno di Cavaliere Falcon, accettandolo di farlo diventare un maestro. Tom incontra di nuovo Alice, che accetta di scegliere di combattere i poteri del male invece di esserlo lei stessa. Quindi si prepara a partire ma alla fine scopre che il cavallo che prepara è per Gregory che si gode la pensione. Gregory cede la sua residenza e tutta la sua eredità a Tom. Dopo aver visto il suo ex padrone allontanarsi dall'orizzonte, Tom sente una campana suonare velocemente e si prepara ad andare in missione. Iscriviti per guardare altri video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione.